I dati sui volontari in Italia, emersi dall'ultimo censimento delle istituzioni non-profit, un'analisi dettagliata sulla numerosità totale dei volontari in Italia, la loro ripartizione geografica e i settori di attività. Vengono approfondite le fasce di età, il genere e il tipo di occupazione dei volontari, evidenziando la partecipazione di studenti, lavoratori e pensionati, un'occasione per conoscere meglio il cuore pulsante del non-profit italiano. In particolare, i dati disponibili riguardano il settore e il sottosettore di attività prevalente dalle istituzioni non-profit, le caratteristiche socio-demografiche dei volontari in essi impegnati in età, condizione professionale e cittadinanza, la tipologia di attività svolta dai volontari, che può essere sistematica, secondo una tempistica pianificata, oppure saltuaria, senza alcuna pianificazione o svolta in maniera occasionale, e la missione delle istituzioni non-profit, trattandosi della promozione e tutela dei diritti, sostegno e il supporto di soggetti deboli in difficoltà e la cura e lo sviluppo di beni comuni. Il settore non-profit, come sappiamo, ha una fortissima componente solidale, basata sull'attività di individui che offrono gratuitamente il loro tempo e le loro competenze. I dati dell'ultimo censimento rilevano le diverse componenti del volontariato organizzato italiano, che rappresentano una prova tangibile della vitalità delle comunità locali. Oggi ci concentriamo sui giovani e sugli anziani. Sono quasi 600.000 i giovani dai 19 ai 29 anni che prestano loro attività gratuita in un istituzione non-profit. Anche se il 56% si concentra nei settori della cultura, sport e ricreazione, quello che caratterizza maggiormente il loro impegno è il settore sanitario, in cui sono presenti per il 17,3% del totale del settore, e in particolare negli altri servizi sanitari, in cui sono inclusi i servizi di soccorso e trasporto sanitario, le attività di donazione sangue e di organi, le attività di clownterapia e di pet therapy e attività di accoglienza e orientamento. Un milione di volontari attivi nel settore non-profit italiano ha invece più di 65 anni. Quasi un quarto dedica il proprio tempo a organizzazioni che svolgono attività ricreative e di socializzazione, mentre un quinto svolge attività di volontariato nel settore dell'assistenza sociale e protezione civile. E proprio in questo settore, la presenza in questo settore è la peculiarità del loro coinvolgimento, a riprova della capacità delle fasce anche più anziane della popolazione di mettersi ancora in gioco e di essere in alcuni casi a supporto dei soggetti fragili.